Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video speciale perché oggi facciamo una cosa, facciamo un flashback da un punto di vista di placement, quindi non sarò qui presente tra qualche secondo ma mi sposterò in un passato quindi tipo un po' ritorno al futuro. Niente di esoterico ragazzi, niente di strano, semplicemente vi farò vedere un video della scorsa settimana, registrato una scorsa settimana perché ho fatto una cosa simpatico. Quando trattiamo grafici, speculazioni finanziarie, trading in generale ci dimentichiamo spesso e volentieri di una cosa cioè il bitcoin, la criptovaluta in generale sono collegati a una tecnologia che è quella della blockchain esistente e possono essere utilizzati anche nella realtà. Ma spesso e volentieri essendo comunque un po' una realtà globale ragazzi per avere proprio la conferma che nella realtà esiste questa cosa, essendo noi i precursori pionieri di questa tecnologia, dobbiamo magari essere in una grande città e vedere alcune cose. Beh, allora mi trovavo in un centro commerciale a Milano con il mio amico Francesco Nonchè, software engineer del team Trading Coin a un certo punto ci troviamo di fronte un elemento d'arredo di questa struttura, cioè un ATM Bitcoin ATM Bitcoin che sono sempre più numerosi nella nostra nazione, sono sempre più numerosi nelle grandi città me lo sono ritrovato davanti ovviamente ragazzi, la curiosità, le foto e tutto il resto e poi mi è tenuta in mente una cosa. Intanto andiamo a vedere come funziona un ATM Bitcoin e facciamo una cosa fantastica, versiamo dei soldi su un wallet Bitcoin per vedere la procedura come funziona e quindi qui esotericamente torniamo indietro nel tempo. Via col video! Allora siamo davanti alla Bitcoin ATM, questo è quello della BIPOC, del BIPOC a Milano e la prima cosa che facciamo andiamo a vedere che qui possiamo fare il sell Bitcoin, quindi possiamo anche venderli, ragazzi, se abbiamo i Bitcoin in portafoglio con il QR code si possono vendere ovviamente noi invece li andiamo a comprare. Allora si può intanto anche generare un paper address di Bitcoin oppure caricarlo su uno che già abbiamo, quindi noi facciamo una cosa, lo carichiamo sui che già abbiamo, ok? 20 euro, alla grande è 20 euro, quindi diamo qui, se li hai presi alla grande, dopodiché andiamo a scendalizzare il mio QR code, perfettamente riconosciuto e mandiamo 0.024, cambio di 8.140 euro, quindi stiamo comprando Bitcoin, 8.000, il tuo cambio sono 7.650, 7.650, quindi c'è una bella differenza, quindi lì mandiamo, ok dobbiamo impostare la fila, va bene la fila, quindi stiamo 8 blocchi vanno bene, nessun problema, ok vediamo, andava avanti, va avanti, va avanti, li stanno mandando, perché potevo anche accelerare la transazione con la fee, aumentando la fee chiaramente sulla blockchain, in quel caso avremmo accelerato la transazione, ma l'abbiamo mandato, 20 euro, i Bitcoin sul mio indirizzo di Wirex, ma soprattutto non mi ha chiesto nessun documento. Ed eccoci ritornati avanti nel tempo al presente, scherzi a parte ragazzi, Bitcoin ATM è una realtà che sta divenendo sempre più presente, soprattutto nelle grandi città, ma soprattutto fa una cosa ragazzi, ci lega al mondo reale del mercato delle criptovalute, a quello che effettivamente potrebbe essere un futuro alternativo, un futuro che in questo momento stiamo immaginando che magari potrà esistere o no, sappiamo bene l'incertezza di questa cosa, però sicuramente una sensazione l'ha provocata, almeno in me ragazzi, quando ho visto insomma la ATM e ho potuto fare anche il versamento, una sensazione l'ha provocata, grande emozione e un senso di felicità, un senso di libertà come quello che tutti noi proviamo quando insomma usiamo il mercato delle criptovalute in generale o parliamo di questa tecnologia. Alcuni spunti di riflessione su questa cosa estremamente importanti, primo di tutti la velocità, il versamento dell'ATM di Bitcoin quasi più veloce, ma potrei dire la stessa velocità forse anche un po' più veloce, diciamo così, di quello che è il versamento di contanti a un ATM normale delle banche, perché in realtà non è richiesto un codice PIN, semplicemente ho appoggiato il mio new reader del mio smartphone con il wallet, l'ho appoggiato al sensore, l'ha riconosciuto, ho premuto l'invio, dovevo solo decidere per esempio la velocità della transazione, potevo magari pagare una fee maggiore per aumentare la transazione, la velocità della transazione e arrivare con meno blocchi di riconoscimento sul mio wallet. Secondo punto, quindi dopo la velocità, è il costo, costo esorbitante direi così di questo tipo di operazione se paragonata a quella per esempio di un ATM classico di euro, quindi delle banche, costo esorbitante ragazzi, però bisogna rapportare questo ATM non come un mero versamento di Bitcoin su un conto Bitcoin, ma come un change, un exchange reale di Bitcoin, quindi in realtà ragazzi quello che fate in questo caso è bypassare una serie di attività che sono classiche della blockchain, del mercato delle cripto e che in questo momento sono anche poco user friendly, diciamo così per molti neofiti è difficile comprare dei Bitcoin perché magari molti non sanno aprire un conto su un exchange, è più complicato farlo. Rapportati per esempio ai servizi che vi permettono di acquistare Bitcoin o altre criptovalute, perché nella ATM ragazzi si potevano acquistare anche altre criptovalute, passando da carta di credito più o meno i costi sono similari, un po' più alti, però qui parliamo di contante ragazzi, quindi non mettiamo la carta di credito da nessuna parte, c'è meno rischio in generale. E poi potete usare il wallet paper, quindi il paper wallet che è la macchina, quindi la ATM mi stampa, però lì già dovete essere un po' più sgamati. La soluzione più semplice, magari anche per i neofiti, è avere il classico wallet su una carta cripto, come quelle per esempio di Wirex. A tal proposito ragazzi vi lascio in descrizione il link per aprire un conto con la Wirex e utilizzarla. È una carta che io uso da più di un anno, che ritengo assolutamente molto buona, però con alcune chicche che vanno utilizzate. Però in descrizione ragazzi trovate il link per aprire il conto con Wirex e ricevere la carta gratuitamente a casa vostra e potete utilizzarla con le vostre criptovalute. Quindi la ritengo la soluzione più semplice, avere una carta Wirex, il wallet di bitcoin è presente sul vostro smartphone, aprite il mio reader, come ho fatto io esattamente, l'appoggiate lì e versate la ATM. Terza e ultima considerazione, è la. Un po' qui ragazzi vi lascio anche un dubbio, voglio anche le vostre opinioni nei commenti. Non esistono limiti al versamento a questa macchina e soprattutto non c'è riconoscimento, allora non c'è bisogno di mettere la carta di identità. Ora qui si aprono diciamo diversi mondi, diversi spunti di riflessione su una serie di ipotesi che si possono anche utilizzare, è giusto, non è giusto, si rispetta la libertà della persona, della Primex e quant'altro, addirittura utilizzando un conto, un wallet paper, insomma praticamente non risulta da nessuna parte che io ho pensato questi contanti, a meno che non si fanno a guardare le telecamere del centro commerciale, diciamo così, insomma è giusto, non è giusto, è sbagliato, può essere utilizzato per delle cose che non sono proprio propriamente legali, diciamo alle invasioni fiscali e quant'altro, sta a voi riflettere su questo e commentare nei commenti. Cosa ne pensate? Un sistema del genere può avvicinare la società normale, chiamiamola così tra virgolette quella un po' più distaccata dei mercati delle criptovalute, le può avvicinare al mondo cripto? La mia opinione è positiva, io penso di sì, perché aver messo lì un ATM con una V gigante scritta, ragazzi, sopra avvicina certamente i giovani, tutti quelli che passano al centro commerciale, ha un mondo. Poi piace o non piace, come sempre tutte le cose hanno due facce con differenti alternative, ma sicuramente una cosa la fa, fa aumentare la percezione di realtà del mondo blockchain, quindi fantastica esperienza a Milano, ragazzi, vi consiglio di farla tutti quanti, vi lascio il link della Wirex in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buon versamento contante, senza limbo e senza capo. Ciao a tutti.